Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News. Oggi vi parleremo di un filato caldo, colorato, brillante, ma anche confortevole. Insomma, un filato dalla qualità rock'n'roll. Stiamo parlando del Metallica. Andiamolo a scoprire insieme. Eccolo qui il nostro Metallica. Un gomitolo dal peso di 50 grammi per una lunghezza di 110 metri. Composto al 50% da lana vergine Mulesing Free e 50% di acrilico. I ferri consigliati sono quelli dal 5 al 7, mentre invece per gli uncinetti consigliamo dal 4 al 6. Passiamo ora alle istruzioni per il lavaggio. Per i primi due o tre lavaggi vi consigliamo un lavaggio a mano in acqua fredda. Questo per fare in modo che le fibre possano assistarsi. Poi successivamente sarà anche possibile il lavaggio in lavatrice. Ovviamente vi ricordiamo di utilizzare appositi programmi per capi delicati. Per quanto riguarda invece l'asciugatura, consigliamo un'asciugatura all'aria, quindi sconsigliamo l'utilizzo dell'asciugatrice. E consigliamo di preferire un'asciugatura su un ripiano orizzontale. Per quanto riguarda invece l'astilatura, questo è possibile ad una temperatura che non superi 110 gradi. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei solventi, possono essere utilizzati ovviamente tutti i solventi più delicati, eccezione fatta per il tetracloro etilene. Quella che abbiamo appena visto è la colorazione Mare Magnum. Come potete vedere è un vero mix di colori vivaci. Partiamo dal giallo per arrivare al rosso, il fucsia e il verde bottiglia. Questa è la colorazione Nave Line. Come potete vedere anche qui un mix di colori accesi che vanno dal blu, il giallo, il fucsia, il rosso e il verde. Green Mix. Così come ci dice il nome è un mix di colorazioni verde, dal più chiaro al più scuro con un pizzico di antracite. Colore Dragon. Qui le tonalità sono molto più calde come potete vedere. Passiamo dal rosso, il bordeaux, il beige e il marrone, dei colori più autunnali, perfetti per questa stagione. Come avrete potuto notare il grande punto di forza del Metallica è la luminosità e la brillantezza della fibra, che conferiscono al filato un effetto davvero unico. Moon Bean. Dai colori pastello, qui si mescola il beige, il viola, il lilla e il verde acqua. Passiamo ora ad una tonalità più scura. Si chiama Shaggy. Qui i colori che si mescolano sono il bordeaux, il blu, l'azzurro, il verde e il rosa. Loop Blue. Qui si mescolano le varie colorazioni del viola, del blu, del beige con un tocco di arancio. Ed infine Hippie. Qui si mescolano le varie colorazioni del fucsia, del prugna, con dei tocchi di grigio e di verde. Abbiamo scoperto insieme il Metallica e tutte le sue colorazioni. Questo filato, come avete potuto vedere, è molto brillante. Si presta alla realizzazione sia di accessori che di capi di abbigliamento, come per esempio cardigan o abitini. Questo filato esprime la sua massima esaltazione nei punti ariosi e poco elaborati. Questo perché, grazie alle sue sfumature, si crea una texture davvero particolare. Questo succede grazie alla torsione della pura Lara Vergine con un filato in microfibra di acrilico lucido. Questo permette un effetto luminoso e davvero moderno e particolare. Il risultato è una luminosità che sembra lurex, ma non lo è, con tutti i vantaggi che in questo comporta, ovvero un filato comodo, confortevole e una fibra uniforme. Arrivati a questo punto, non mi rimane che salutarvi, ricordarvi di attivare la campanella e di iscrivervi al nostro canale YouTube. Vi ricordo inoltre di seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meglio di Maya, su Instagram, su TikTok e sul nostro blog. Al prossimo Tessilan News! Grazie a tutti!